Ah, che bella giornata, ho ancora la bottiglia della strega, vabbè Oh, bella, bella Oh, bella Oh, bella Oh, bella, bella, bella Che musica, signori, che musica Ma che musica ci siete ascolti? Questa è la musica sad per i cicachad Comunque, siete pronti per la prima lezione di informatica? Eh, per cui voglio fare sentire un'altra musica. No, 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 no. No, nemmeno Ragazzi, ragazze di terminate Revolte di un'altra parte... Vado, andiamo Regnare di un problema dove si trova... A Pianco Un'altra scelta Siii, ecco qua se ne dice non è stato informatico l'italia ecco qua come si usa? Ciao prof non parla prof prof non parla prof 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 Ciao non è un po' la terra del bambino e non ciò che non c'è mai che e la bbc. e' un'esercizio ok non lo so non lo so non lo so la sua non lo so non lo so non lo so ma la cosa è che è una porta la parola il 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 roma al massimo un po' di sottotitoli roma gioco a full guys al momento easy win altro che il dream togliti prof 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 comunque lì a quel rosa nick che gioco come a full guys se ne è che una propria coglione c'era a miclap sulla sala da giocare a miclap giochiamo a chi mangia fuga giochiamo a chi mangia fuga c'è chi mangia fuga facciamoci una maniera ma che veniva stasera non c'è non c'è non c'è non c'è dove siete non è mai un po' non c'è l'esercito alle caratteristiche non è ancora un po' due e vittimini che non credo che lui è un po' c'è un po' però questo non c'è un po' dove il mio intero vabbè non è arrivato buonasera ben bella io lo ricordo ma soprattutto non fa fare niente non parla non lo spiega non mi ha mai avuto la vita di dubb ti ha avuto il mio frattore al computer per favore per me che è rai da l'alberto e non è vero lei è vero 24 capitoli informatica perchè non ha mai avuto un'ora con me anni prima e quindi non è più pronti di voi ignoranti me o me o ti capito capri il mio amore il mio amore è un'altra cosa è un'altra cosa non so niente il mio amore è un'altra cosa la nostra l'amore è una persona mi ha detto che è una persona un'altra cosa non è un'altra cosa non è un'altra cosa ma come pariati il rigenio di un'innovazione del mondo rilevato a dare un'ora e due tanti barbara migliore pesca sono roma roma in giro di pericolari e leggi che si tratta di più genna e tre e quattro e quattro i miei sono rosa di che pari giù e se la parola troppo leggermente con il pericolo buongiorno e non è vero 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 ma stai a dire per aver guardato a dire per aver guardato il mio amore e non è vero ha detto il prof di mettere la canzone favotissima non c'è come pensate che si sono quasi parigi alle feste bravo mamma muta d'internet la propria verità non beve e anche la chiamata vabbè che vengono tutti l'attività di persone lo sto giocando a gta un po' due metri in pieno di dischi tra di gta musica ma in tutto bene comunque 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 partiti a casa mia comunque torni casco a casa che hai mai mai stato che devo stare i dischi bye bye